Allora, consideriamo un triangolo rettangolo ABC fatto in questo modo, appoggiato sul cateto maggiore, sia questo il cateto A, sia questo B, sia questo C e di questo triangolo tracciamo l'altezza relativa all'ipotenusa H. L'altezza H dividerà l'ipotenusa del triangolo rettangolo in C1 e C2, la somma vale C, questo chiamiamo O, questo chiamiamo H e ovviamente questi sono angoli retti. Allora, noi tutti sappiamo che A quadro più B quadro è uguale all'ipotenusa al quadrato, è il teorema di Pitagora e oggi in questo video lo dimostreremo. E chiediamoci vale, esiste una relazione inversa a questa? Cioè proviamo a rispondere a questa domanda. A alla meno 2 più B alla meno 2 è uguale a qualcosa alla meno 2? Questo è quello cui cercheremo di rispondere ora. Cioè se A quadro più B quadro è uguale a C quadro, anche alla meno 2 più B alla meno 2 fa C alla meno 2? O se non è C, cosa sarà? Proveremo a rispondere a questa domanda. Allora, intanto dimostriamo il teorema di Pitagora. Consideriamo questi due triangoli, questo piccolo e questo un po' più grande. Allora, consideriamo, ridisegniamoli qui appoggiati sul cateto maggiore come questo triangolo. Quindi il cateto maggiore del triangolo piccolo è sempre un triangolo rettangolo, ovviamente, che abbiamo detto è un angolo retto. Questi sono retti all'altezza e perpendicolare all'ipotenusa. Quindi questo è il cateto maggiore che è il lato A, questo è il cateto minore che è C1 e questa è l'ipotenusa, no, questa è H, scusate, questa è H, il cateto maggiore è H, l'ipotenusa è A. Vediamo adesso l'altro triangolo, il cateto maggiore di questo è C2, il cateto minore è sempre H e l'ipotenusa è B. Ovviamente questi due triangoli sono equivalenti, quest'angolo uguale a questo, l'angolo retto e di conseguenza anche questo uguale a questo ed è ovviamente equivalente anche al triangolo ABC che per comodità lo riscrivo qua. Quindi questo è equivalente a questo ed equivalente a questo. Quindi questi tre angoli sono equivalenti a questi tre e a questi tre. Allora qui possiamo scrivere dall'equivalenza di questi tre triangoli il rapporto tra, per esempio, l'ipotenusa e il cateto minore è uguale per tutti i tre, quindi abbiamo che A diviso C1 è uguale a, prendiamo il triangolo principale, questo grande, A, quindi qua abbiamo fatto l'ipotenusa diviso il cateto minore, anche qua facciamo l'ipotenusa diviso il cateto minore, quindi C diviso A. Per quanto riguarda, diciamo, questi due triangoli facciamo l'ipotenusa diviso il cateto maggiore, quindi B diviso C2 è uguale a C diviso B. Ora, qui cos'è che abbiamo? Abbiamo che A quadro uguale C per C1 e B quadro uguale a C per C2. Se sommiamo, abbiamo A quadro più B quadro uguale a C, C1 più C2, tutto questo è C e quindi anche questo è uguale a C quadro. Quindi abbiamo dimostrato il teorema di Pitagora, questo qua. Adesso vediamo come ottenere una relazione di questo tipo. Allora, partiamo dall'area. Noi sappiamo che l'area del triangolo è un mezzo base per l'altezza, ma considerando in questo caso la base B è l'altezza A, ma possiamo anche scrivere che è uguale alla base ipotenusa per l'altezza H, quindi anche questo sarà uguale a un mezzo H per C. Ora, da questa uguaglianza cos'è che otteniamo? Otteniamo che A per B è uguale a H per C. Quindi possiamo scrivere che, diciamo, A B, facciamo così, dividiamo per C è uguale ad H. Quindi l'altezza è A per B diviso ipotenusa. Ora, partiamo proprio dal teorema di Pitagora. Allora, se A quadro più B quadro uguale a C quadro, posso sostituire al posto di C la relazione che ottengo, la relazione che ottengo da C, da questa, da questa relazione, quindi C è uguale ad A B diviso H. Questo C ce lo metto qua dentro e ottengo che A quadro più B quadro è uguale a A B diviso H al quadrato. Ora, se divido tutto per A B quadro, quindi se divido tutto per A B quadro, ho A quadro su A quadro B quadro, B quadro su A quadro B quadro è uguale a 1 su H quadro. Ora, questo e questo va via, questo e questo va via, quindi otteniamo che A alla meno 2, che è questa quantità. Qua scriviamo questa, più B alla meno 2 è uguale ad H alla meno 2. Quindi, la relazione esiste, non è ovviamente C, cioè se A quadro più B quadro è uguale a C quadro, ovviamente A meno 2 più B alla meno 2, diciamo, non è C alla meno 2, ma in questo caso è H alla meno 2. 6, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 12, 12, Grazie a tutti.